che sono state consegnate ieri non erano poi di grande importanza collettiva. La cosa principale è ricevere la realizzazione. Nessuno può garantire che questo accadrà e questo è un processo vivente così deve svilupparsi. E il fatto che ricevi questa realizzazione è il punto principale. Per ricevere la realizzazione se alcune persone vogliono venire sul palco, possono venire anche. Se ci sono persone sedute sul palco o in difficoltà, possono venire sul palco, se vogliono. se ci sono persone sedute per terra che sono in difficoltà, che sono scomode. O quelli che vogliono andare via, possono venire. Ma non disturbare gli altri. che vogliono venire sul palco, possono venire. Come ora, quelli che sono seduti per terra, per favore, si sedute. Per favore. È freddo, non è? Non c'è nulla da spiegare per loro. Allora, è molto freddo lì? Che deve essere. Mentre, si, si. Siamo scopri. È più freddo, è freddo lì? È freddo? Non, non è tutto bene. Cosa? Tutti i piedi, tutti voi. Tutti tutti voi dovremmo sentire, spettate. O se le persone davanti possono venire, tutti possono sentire davanti, è meglio. Come molti possono venire sulle strade. Ora non si tratta, per favore, non si distrugge, per favore. È un momento molto importante. Non si distrugge altri. Dobbiamo essere molto, molto insieme ai altri. Scusate, allora le persone qui non dovrebbero stare in piedi. Io sto alzando. Tutti potranno vedere me. Il medaglio ha detto che si alzerà in piedi, così tutti potranno vederla. Per favore, le persone che stanno qui dovrebbero stare in piedi. Per favore, le persone che stanno in piedi. Tutto bene? Bene. Per favore, le persone che stanno in piedi. le persone che stanno in piedi. Allora, per favore, tutti si dovrebbero togliere le scarpe e poggiare i piedi parallelamente per terra, perché Madre Terra ha la proprietà di assorbire le nostre tensioni, i nostri problemi. Potete anche togliere gli occhiali. Potete anche togliere gli occhiali. Aiuta anche la vista. Se avete, ad esempio, la cintura troppo stretta o la cravatta troppo stretta, potete allentarla un pochettino per essere più comodi. Tutte le persone dovrebbero essere sedute. Tutte le persone dovrebbero essere sedute. Tutte le persone dovrebbero essere sedute e non dovrebbero muovere a tutto. Ora, con le due le mani, come questo. potete sapere che le due le mani, le due le mani, sono i piedi del palmo, sono i sedi centri del palmo e i sedi centri del palmo. Potete sapere che le dita della mano, più i punti al centro del palmo e alla base del palmo, mostrano i sedi centri del palmo e i sedi centri del palmo. Potete sapere che le due le mani, sono i sedi centri sul lato sinistro e i sedi centri del palmo. Purtro. Ora, ci sono i sedi centri, le due le mani, i sedi centri del palmo e i sedi centri del palmo. ci sono i sedi centri anche sulle nostre mani e imparare le presto come stanno. La mano a sinistra è responsabile dei nostri desideri. Oggi, ricevere la realizzazione è il nostro principale desiderio. Per questo desiderio, mettete le le mani, mettete le le mani, troppo sulle. Ne sei nonordinata. Cioè, e non semplice? Quello che vi è sbagliata. Vi stentando tutti i le tuoi piedi, dovrebbe essere all'un Arctic all'un del palmo. Oggi, tutti i i tuoi piedi. Tutti il piedi sempre. Tappate. Tutti il pieto, Non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. Poi mettere la mano sinistra, così come questo, la mano sinistra. Just come questo, non lo so, non lo so. Ora, la mano destra dovremmo usare per agire. Ora dovremmo usare la mano sinistra sul lato sinistra. E per usare la mano sinistra, dovremmo usare la mano sinistra nei centri diversi. Perché voi stessi alzerete la vostra Kundalini. E questo è quello che vorrei raccontare, dove mettere le mani e dopo, quando si chiudere le mani, dovremmo usare. Questo è il modo che vi mostrerò. La mano destra dovrebbe andare prima nel cuore, e poi nella parte inferiore dell'addome, poi nella parte inferiore dell'addome. Ora, uno deve sapere che sia tutto sul lato sinistra. tutto questo avviene sul lato sinistro, dalla parte sinistra del colpo. Tutto questo avviene sull'allo sinistro, dalla parte sinistra del colpo. Poi si torna indietro, quindi sulla parte inferiore dell'addome, poi al cuore, e poi sull'angolo tra la spalla e il collo. dalla parte inferiore dell'addome. Molte persone lo mettano come questo non è bene, in questo modo, è semplice. Nel West, questo è il obiettivo del centro, sempre colpevole. È colpevole perché uno si sente colpevole. e adesso vi dico che non dovreste sentirvi colpevole di nulla. In effetti non avrete fatto nulla di male. Il Divino è l'oceano del perdono. e non potremmo fare nulla di cosa che possa sfidare il potere del Divino. Quindi nessuno dovrebbe contare i propri errori e queste cose. se si sente scomodo seduto per terra, forse è bene siderci sulla sedia. Non per farmi scomodo. E' quasi ci sia la presente. Non per farmi scopo. Non per farmi scopo. Non per farmi scopo. E' qualche cosa. Non per farmi scopo. Non per farmi scopo. Non per farmi scopo. Non per farmi scopo. È qualcosa che gli affastiene. E avete il diritto di riceverlo. Quindi cosa c'è di doversi sentire colpevoli? Non c'è bisogno di sentire colpevoli. Potete venire qui, così, o qui, potete venire. Allora, ora... Allora, ora, allora. 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 E ora, quando i i i sessori non sono stati, è tutto bene. Allora. Allora. Ora ora, cosa facciamo, è che mettiamo la mano di right, Abbiamo, dopo questo, qui sul cuore, poi sul cuore, poi dovremmo prendere la mano e lo mettere sulle due regioni, qui sul cuore del cuore, e lo mettere forte e lo muovere sette volte, come con la scala, sette volte, è tutto. Poi dietro la nuca, quindi l'apriremo bene la mano e metteremo il centro del palmo sull'area della fontanella, premendo, e muoveremo la cute per sette volte, in senso orario. Ora, nessuno dovrebbe guardare gli altri, uno dovrebbe guardare uno stesso. Ora, per favore, chiudete gli occhi. e non apritevi finché non ve lo dico, perché l'attenzione deve andare dentro. Ora, la mano sinistra verso me e la mano destra sul cuore, adesso, la mano sinistra verso me e la mano destra sul cuore, adesso. Sotto il cappotto sarebbe meglio. Sotto il cappotto sarebbe meglio. Dunque, la mano sinistra, invece, deve stare foggiata sulle ginocchia, sul ginocchio, aperta. Sotto il palmo dovrebbe essere verso l'alto, verso il cielo, foggiata sulle ginocchia. Ora, questa mano sinistra deve essere lasciata così, bene aperta. Dopo aver messo la mano sul cuore e aver chiuso gli occhi, e quindi, fatemi questa domanda basilare. Madre, sono io lo spirito? Chiedetelo per tre volte. Ah, sincero. Sinceramente. Sotto si, hai più volte. Sotto. 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 Togliate le mani sull'altra parte dell'addome, sull'altra parte dell'addome e sull'altra parte dell'addome. Togliatevi gli occhiali. C'è ancora qualcuno con gli occhiali, per favore togliete gli occhiali, anche se non ce li avete sugli occhi, li metteteli via. Adesso la seconda domanda, basilare, segue la prima. Questo è il centro della maestria. Questo è il centro della maestria, creato da tutti i grandi maestri. Qui mi farete un'altra domanda. Quindi fatevi questa domanda per tre volte. Madre, sono io il mio proprio maestro, sono io la mia propria guida, il mio proprio guru. Per tre volte. Per favore. Ora, per favore, mettete le mani sulle mani sull'altra parte dell'addome, la mani sull'altra. La mani sull'altra, la mano sull'altra. La mano sull'altra. scimmataggi e la mano destra si sposta alla parte inferiore dell'addome. La mano destra deve essere posta nella parte inferiore dell'addome, dalla parte a sinistra, quindi, e la mano sinistra rimane aperta sul ginocchio sinistro. Questo è il centro che ci dà la conoscenza del Divino. Per favore chiudete gli occhi altrimenti non funzionerà. Qui voi dovete capire che io non vi posso sforzare a ricevere questa conoscenza. Così dovrete dire, madre, potrei per favore ricevere la vera conoscenza, la pura conoscenza? Per favore ditelo sei volte perché questo centro ha sei petali. Per favore mi dia la pura conoscenza, la conoscenza divina. Adesso riportate la mano destra sulla parte superiore dell'addome e premete. Per favore non parlate. Per favore non parlate. She's feeling bad. She's feeling bad. She's feeling bad. Bad. She's feeling pain. She's feeling bad. She's feeling bad. All right. She's feeling bad. Put your right hand on the upper part of the stomach. Now, at this point, as it is the center of the principle of mastery, you have to say mother, I have my own master full of understanding and confidence for the Kundalini to come. Quindi, siccome questo centro è presieduto dall'aspetto del maestro dentro di noi, noi dobbiamo dire, fare questa affermazione in piena fiducia per far sì che la Kundalini possa salire e dire, madre, io sono il mio proprio maestro. Ten times you have to say, madre, I have my own mind. Dobbiamo dillo dieci volte. Madre, io sono il mio proprio maestro. Please, stretch your left hand properly. Dovore se. Dovore tenete la mano a sinistra verso Shirmataji, poggiata sul ginocchio sinistro, aperta con il palmo rivolto verso l'alto. Adesso portate di nuovo la mano destra al cuore. Adesso portate di nuovo la mano destra al cuore. Lofast пришere il tuo maestro. Ora facevi il tuo maestro. Ho proprio tu intensity per far 6 volte. Adesso contiene fede, fiducia in voi stessi. Adesso contiene fede, fiducia in voi stessi. Adesso con piena fede, fiducia in voi stessi. Adesso, contiene fede e fiducia in voi stessi. Adesso con piena fede, fiducia in voi stessi. per dodici volte, Madre, Io sono lo Spirito. Ora, mettete la righte mano nel corno del vostro cuore e del piede, in centro, come si chiama la righte di Shuddhi, da fronte. La righte. Un angolo fra la spalla e il collo in un centro che viene chiamato il visciù di sinistro. E ho detto che il divino non è solo l'oceano di l'amore e compagno, ma è l'oceano di perdita. Quindi, per favore, non sentiate perdita e dicete 15 volte con tutto il tuo cuore e dicete, il divino non è soltanto la sorgente di ogni amore e compassione, ma è anche la fonte di ogni perdono. quindi dite, con piena fiducia, per 16 volte, Shima Daji, Io non sono colpevole. Io non sono colpevole affatto. Per 16 volte. questo è il centro più danneggiato. E se ancora vi sentite colpevoli, dite questa frase 108 volte. così almeno vi punite. Così almeno vi punite. Perché dovreste essere ben disposti verso voi stessi. Perché dovreste essere ben disposti verso voi stessi. Stai ad entrare nel Regno di Dio. Adesso portiamo la mano destra sulla fronte, trasversalmente. con piena compassione verso gli altri, dite, Madre, Io perdono tutti. non è importante quante volte si dice, è importante dirlo col cuore. Tu sei la città, perché è il mio titolo te. Ricorda che lo facciamo, ma città te. Ma città un po' che lei in giudanza trova un tipo. Dire che non perdonate è più difficile che dire che perdonate. Perché sia che lo facciate o no, è tutto un mito. Però, se non perdonate, giocate nelle mani delle persone sbagliate, della negatività. Ora, per la vostra propria soddisfazione, puoi mettere la mano sull'arrivo e dire che «Mamma, se ho avuto bene, mi chiedi, mi chiedi per te». Adesso, per la vostra propria soddisfazione, ponete la mano dietro la nuca e dite, per favore. E dite, se ho commesso qualche errore, per favore, oh Dio perdone. E dite, se ho commesso qualche errore, per favore, oh Dio perdone. Oh Dio! Oh Dio! Ora, prendete le mani, lo mettete sulle mani, lo mettete sulle mani, come se fosse difficile. Adesso, alzate il nuovo la mano, aprite bene la mano e ponete il palmo della mano sulla testa. Allora, prendete il palmo della zona della fontanella e fate un movimento circolare e chiedete, Madre, per favore, datemi la realizzazione. E dite, se ho commesso qualche errore. O capi sulle mani, lo mettete sulle mani, come se fosse difficile. E dite, no, per favore. O cao si è una propria soddisfazione. E dite, se va come, e in un modo quasi come, e in un modo departamento, Adesso portate giù le mani, lentamente aprite gli occhi, guardatemi senza pensare. Adesso mettete la mano destra verso di me e la mano destra verso di me e vedete se c'è come una prezza fresca che viene fuori. Ora muovete la mano per sentire le differenze di temperatura e di percezione tra diverse parti della testa. Adesso fate il contrario, la mano sinistra verso il scimataggio e la mano destra al di sopra della testa. Stessa cosa. In questo momento dite nel vostro cuore, madre io sono lo spirito. Il contrario di voi. Fate l'esperienza, fate il contrario. Non c'è nessun aria dimensionale, non dubbi. Non abbiate dubbi su voi stessi, perché non c'è nessun aria dimensionale. Ora puoi imparare le tante e puoi imparare le tante come te e chiedete le domande tre volte. Madre, è questa la brezza fresca dello Spirito Santo? È questo il potere onnipervadente di Dio? È questo il Brahma Shakti? Chiedete questo dentro di voi. Allora, adesso portate le mani sulle ginocchia e vedete se sentite una brezza fresca alitare sulle mani. Ma oggi vi insegno di come progettare loro quando andate a casa. La maggior parte di voi avete una brezza. Per ieri che hanno sentito qualcosa sia sulle mani o sulla testa, alzate tutte e due le mani. Quesso ha praticato, certo parte. Dio vi ben dì! Adesso magari non vedete molto bene. Chi non l'ha sentito, non si deve sentire diciamo male, perché tutti prima o poi lo avvertiranno, sono pochi quelli che non hanno sentito. E potete stare assolutamente rilassati e potete anche guardarmi senza pensare. Ora voglio dire come proteggere voi stessi quando andate a casa. Ogni giorno dobbiamo proteggerci. Potete mettere la mano sinistra verso Srimataj in questa maniera. Ora, e potete muovere la mano sulla vostra aura, che ha le vibrazioni, come questo. Ora, lo facciamo sette volte, lo facciamo. Uno Due Three Four Five Six Seven Ora voi potete alzare la Kundalini. I quelli che non hanno sentito potrebbero sentire. Adesso voi potete da soli alzarmi la Kundalini. Anche quelli che non hanno sentito bene possono farlo. Mettete la mano sinistra davanti al luogo dove richiede la Kundalini. Mettete la mano sinistra davanti al luogo dove richiede la Kundalini. Si, come quella. Si deve avvolgere la mano sinistra, con la mano sinistra, con la mano sinistra. Si deve avvolgere la maniera sinistra. Adesso? e girate e fate come un nodo. Di nuovo. Di nuovo. La mano sinistra, la mano sinistra, fate come un nodo. Un altro nodo. Un'altra volta, ora questa volta tre nodi. Questa volta si faranno tre nodi sopra la testa. Si descriveranno. Che? Due. Tre. Ora vedete. Quanto fluisce in là. Molto più. I vostri occhi sono tutti sparkly. Dio vi benedite. andiamo fuori domani a Venezia. Nel prossimo anno, ma abbiamo un ashram qui. Molto buoni yogi. Per favore, vado e apprezzate come amministrati. Abbiamo anche un programma seguente. Per favore, è nella città. C'è un altro programma nei prossimi giorni che è in città. Non perdetelo, è importante. Rispettate la vostra realizzazione. e quelli che non l'hanno sentita la riceveranno senza altro, ma forse c'è qualcosa che non va in loro ancora. O fisicamente, o mentalmente, oppure emotivamente. Quindi, per favore, stabilizzatevi e gioite di voi stessi. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Alla di voi avete spento il tempo. Sì, vedete le occhi. Vedete, le occhi sono sparkly. Sì, sì. Grazie mille. 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 Vihee? Ha廣